A questo punto trasferiamo ciascuna soluzione antibiotata nei pozzetti della piastra ELISA. Dato che il volume finale contenuto nel singolo pozzetto sarà di 100 microlitri, questo sarà costituito da 50 microlitri di soluzione antibiotata e 50 microlitri da sospensione batterica. Le reazioni avverse nell'uomo dovute all'utilizzo di un prodotto veterinario devono essere sempre considerate come gravi, quindi bisogna sempre segnalare quando le reazioni avverse possono essere causate da un contatto cutaneo, da inalazione, da iniezione accidentale o anche da ingestione accidentale. Questo perché? Perché le eventuali segnalazioni e la gravità del caso porteranno a un'indicazione nel foglietto illustrativo dell'utilizzo eventualmente di guanti, di maschere o di porre particolare attenzione nel maneggiare il prodotto. Una volta che abbiamo l'animale è opportuno contenerlo, contenerlo con una capezza, contenerlo in modo che il muso dell'animale sia fermo. Questo perché? Perché noi utilizziamo dei tamponi che devono toccare il meno possibile la parete del naso per arrivare più profondamente a livello della coana nasale.